Mi chiamo Giovanni De Gara, faccio l'artista, vivo a Firenze e ultimamente appunto col progetto El Dorato sto girando un po' tutta l'Italia per sensibilizzare sul tema dell'accoglienza. Con l'oro si è sempre rappresentato Dio, si usava l'oro, la foglia d'oro per fare i fondali dei quadri o rivestire i templi nell'est, quindi era un materiale ricco perché Dio veniva rappresentato dal materiale più pregiato, più luminoso, più ricco, c'era questa assonanza. Secondo me ora Dio si raffigura meglio con questo foglio d'oro rispetto alla vecchia foglia d'oro in Karati perché appunto è un foglio d'oro che accoglie tutti senza fare distinzione su un tipo, è fatto su misura umana, noi siamo fatte immagini e somiglianze a Dio e queste coperte sono 2,10 m, 1,60 m perché hanno una proporzione che possa mostrarci tutti, magri, grassi, piccoli, in coppia, possiamo starci. Poi è delicato ma è resistente, è luminoso, noi ci possiamo riflettere in Lui e quindi tramite l'unione con questo Dio, io quando sono lontano vedo tutta una cosa sfocata, deformata, questa luce, quindi un concetto a strategia, ma avvicinandomi e entrando in contatto con Lui io mi specchio completamente, mi vedo proprio quindi diciamo avarcando questa porta entro in una dimensione trasformato. E da lì poi ho iniziato a muovermi, Lampedusa, Palermo, Bologna, Parma, Pavia, Venezia, un po' per tutta Italia, questa qui è la sedicesima tappa che faccio nelle Valle Valdese, ho fatto una trentina di chiese, sia chiese protestanti che chiese cattoliche appunto perché il progetto non deve avere barriere, quindi neanche sulle porte dove vado io non c'è distinzione, insomma le porte vengono tutte uguali e uniformano a un progetto ecumenico. Il problema dell'Italia e il mio dispiacere è che non si parla mai di arte e di arte contemporanea, quindi questo progetto se sei leghista dici no fa schifo quella cartaccia sulla chiesa, se non si è leghista dici bellissimo, bello, bella idea, geniale, tutta la discussione poi alla fine su tutti i temi che interessano a me che questo è, si ferma sempre al primo grado, accoglienza no, tutto come si fa adesso, cioè senza così, senza approfondire, senza cognizione di caso come se fosse una partita di calcio tra due squadre dove è necessario vincere e non capire chi un po' l'arte, la massica e tutto capisce quello che sto facendo e quindi non è solamente, cioè vede lo scontro tra una cosa millenaria, secolare e questa cosa modernissima che c'è, cioè è un'opera punk secondo me questa perché vai a mettere questa cosa così con lo scotch e la colla sui edifici super vincolati, è un semplice rivestimento come fare un pacchetto, quindi un po' di colla sui bordi, la tiri, le linee sempre in verticale e così quando la togli, diciamo dopo un mese, dopo una settimana, perché può durare il tempo che dura, se nessuno la tocca resiste, molte volte la tocca, resistente, se viene strappata è bene toglierla perché sennò l'effetto che fa non è più un effetto di bellezza, nel senso perché il messaggio cristiano, il messaggio dell'accoglienza, l'integrazione sono cose belle e quindi deve essere bella proprio la porta, esprime un messaggio bello, se si rompe ci riporta subito al dramma dei migranti che però ricordate basta nella sofferenza, probabilmente in questo momento non aiuta neanche a sensibilizzare perché tanto le squadre sono fatte, invece se facciamo capire anche a chi è un po' più razzista che ci sono delle opportunità e dei vantaggi in questa integrazione che comunque non può essere bloccata, deve essere solo gestita, è impossibile bloccare, è impossibile fare, quindi se si fa prendere consapevolezza che non è solo essere buoni e dare del nostro a loro, quindi che non ci priviamo di niente ma possiamo approfittare di un sacco di cose che lo scambio procura, secondo me il messaggio è quello, la porta ad essere bella.